Il fiume Saline è un'oggettiva minaccia per il territorio di Monte Silvano. Oggi il Movimento 5 Stelle presenta un'analisi curata da tecnici ambientali per enumerare tutti i perché del nuovo grido d'allarme. Parliamo di decine di metri cubi al minuto che sversano liquami e sostanze chimiche all'interno del fiume in modo continuato e senza interruzione. Questo tipo di problema rappresenta una gravità estrema per il semplice fatto che l'acqua non si miscela con queste sostanze, si disperde in chiazze e oltre a danni evidenti sulla fauna e sulla flora va comunque a incidere su tutte quante le realtà antropiche che hanno a che fare con quell'ecosistema. Per la prima volta rispetto ad altre, gli scarichi ci danno l'opportunità forse di poter dare dei nomi e dei cognomi alla galassia di inquinatori che hanno contribuito a rendere quell'ecosistema un luogo devastato e privo di vita. I 5 Stelle questa volta dicono qualcosa di nuovo. Questa volta si entra a gamba tesa in una situazione che rischia di trasformare il fiume in una bomba batteriologica e coinvolgono tutti, ma proprio tutti, dal Parlamento alla Regione senza tralasciare nessuno. Mentre di solito sono stati sempre i cittadini, i pescatori o gli albergatori a fare esposti, questa volta siamo noi come movimento politico ad entrare a gamba tesa nella situazione. Questo grazie a Colletti, che è un deputato della Repubblica Italiana, a Domenico Pettinari, che è un consigliere regionale e ai vari consiglieri comunali, quindi di Città Sant'Angelo e Montesilvano. Questo perché? Perché abbiamo bisogno di sanare una situazione oramai posta all'inverosimile, perché il fiume Saline è oramai diventato una bomba batteriologica e per questo noi cerchiamo di sensibilizzare il commissario ad acta della discarica di Villa Carmine perché è una zona ad interesse ed è posta troppo vicino rispetto a quello che è il fiume Saline. Vogliamo sensibilizzare anche il governatore D'Alfonso, perché comunque nell'ultima campagna elettorale ha parlato anche più volte del fiume Saline, dicendo come fosse uno dei punti più importanti al suo programma. Benissimo, abbiamo bisogno di questo.